Siete connessi con Gigi D'Agostino, un piccolo paese fuori dal mondo. Coloro che sono attratti dalla non-violenza dovrebbero, ciascuno secondo le proprie capacità e possibilità, partecipare all'esperimento. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Alle due suerte Comincia la storia Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! M2O 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 Grazie a tutti. 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 Io, 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 ci siamo capiti, vero? Ogni giorno, alle due del pomeriggio, su M2 comincia la storia. Grazie a tutti. 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 Il cammino di Gigi D'Agostino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Grazie a tutti. Alle due del pomeriggio. Grazie a tutti. di Gigi D'Agostino. non devi aspettare, non devi aspettare, non devi aspettare, non devi aspettare che accada. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Gigi D'Agostino. a tutti. 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 comunicazione intenso. un radio che suona e certo. Grazie a tutti. 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 Ogni giorno, M2O. Il cammino di Gigi D'Agostino. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. e a tutti. a tutti. a tutti. alla discoteca. a tutti. 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 . a tutti. . . a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.